ciao raga come state spero bene allora nuovo video che riccio dunque questo video che riccio e per parlare un po con voi ma anche per darvi la buona domenica a tutte e buona domenica a tutti quindi che dire ho dovuto aprire un po la finestra se non si videva niente spero che questo video vi piaccia perché è per fare un po di compagnia appunto e niente quindi che dire sto registrando con la telecamera posteriore e non frontale spero a questo punto vi possa piacere e che dire oggi volevo spolverare ma spolvererò spolvererò un altro momento quindi dunque tanto per cominciare non mi ho collaborato la faccia però per niente me la lavo tra poco tranquille ciao ho già fatto colazione ovviamente anche se ho un sonno vicino a vita e vabbè niente già si capisce che c'è sonno vero? dà assoluto lo sbodiglio che ho fatto però vabbè niente premetto piccola premessa oggi non so se vero video di trucco ma penso di sì perché ve lo voglio promettere quindi ok e non so vedo questa telecamera stortissima però vabbè niente e dunque ho sistemato la mia postazione trucco barra scrivania e appena posso fare un trucco di la nella mia scrivania o da quella parte dove c'è la cassettiera mi ti amo ok premetto che non sono una truccatrice però mi andava lo stesso di di fare questo video e niente bene ragazzi io vi saluto e vi auguro una buona domenica in breve a dopo e rieccomi ragazzi non so come sia venuto sto video di prima perché era all'incontrario spero che non si veda all'incontrario dopo che l'avrò registrato mi vedete le mie belle unghiette le ho fatte i giri spero che vi possano piacere e niente sì sono ancora in pigiama come potete vedere già se mi starete chiedendo ma non registri più con l'iPhone sì però questo ho voluto riprendere ma perché mi piace molto oddio perché non metto a fuoco ok è nulla vedete che bella giornata che oggi è una bellissima giornata troppo bella già bella giornata sì adoro questa giornata bellissima bella 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 io vi saluto ci vediamo un altro momento ok a dopo allora questa è la mia postazione come potete ben vedere e qui è tutta la mia bella postazione trucco barra scrivania dove edito i miei video vabbè li edito più da cellulare che da computer però li potrei anche editare da computer perché secondo me i video escono bene e meglio anche però vabbè nulla questo è la mia come si può dire dove metto tutti i pennelli tutte le mie cosine questo qua c'è dei trucchi profumi e cose e più su c'è i miei dischi i miei dischi i dischi dei miei contanti preferiti vabbè a parte i santini e lì c'è l'incioclopedia lassù da questa parte da questa parte ci sono altri cosmetici robe varie qua c'è la cassettiera che è un po' zuzzetta però vabbè è nulla e qua ci sono io ciao ciao